Ed ecco l'avvio del match con il possesso di palla a favore della formazione ospite. Ulteriore corner per Tiago Grippi, parte e tira la rete! Il vantaggio con la rete di Tiago Grippi, il nonno sigillo stagionale della Cam e Dosson con Belsito che prova! E sottoporta il raddoppio della Cam e Dosson! Ha trovato il raddoppio con Juan Fran! Si allunga troppo il pallone e parte in contropiede dal Cina! E trova la meta a Catania col numero 23, il gol del 2-1. Ancora Igor in verticale! E' la grande azione che si conclude con la rete di Giapa! Tiago, ecco qua centralmente Tiago Grippi, su di lui tre avversari ma lascia libero! E' la possibilità della rete! La rete della Cam e Dosson! Ed ecco il via, questa ripresa, il terreno, diciamo il campo... E' tanto c'è la rete! E' la quinta rete della Cam e Dosson! Il 5-1 di Tiago Grippi! Ugarani rimane sorpreso però Ugarani, Ugarani! E' la Cam si porta sul 6-1! La meta a Catania per ora vediamo che non ha... E' tanto c'è un autogol, possiamo definirlo così. Il giocatore di movimento dal CIN in più e c'è il gol! Attenzione perché si è sul 6-3! Ugarani, Ugarani! Il pallone per Tiago e gol! E la chiude Tiago Grippi con questa tripletta da parte del numero 20! Arriva il finale di partita con l'ennesimo successo interno da parte della Cam e Dosson.